Molto molto importante, coach sofferta ma indubbiamente meritata, una commessa che come l'anno scorso dimostra di avere tanta grinta e tanta voglia di vincere. Non basta, oggi è bastato ma ripeto la voglia ok, mancano ancora tante cose. Quando si vince credo che sia più facile fare, come dico, segnate il design sulla partita. Mancano ancora tante cose, grazie. Per farlo a San Pietro di Caprata con Bernate, punteggio finale 59, Pultonese 55, Farma è tutto. Daniel Pisani vi ringrazio per la cortezza attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di espansione TV.